Il rispetto ai quali oggi li stiamo pagando tutti per intero. Io oggi, nonostante queste difficoltà di risanamento finanziario, mi trovo a dovermi confrontare anche con un ulteriore taglio da parte dello Stato, del Governo centrale, di 1.700.000 euro per il Comune di Agrigento. Quindi io sto facendo l'azione di risanamento finanziario, il Governo nazionale ci taglia 1.700.000 euro. E ha invitato Lombardo sabato 8 gennaio ad Agrigento a instaurare un confronto, ovviamente di carattere regionale, con lo Stato per l'avvertenza a riduzione fondi. Il tema è proprio questo. Cioè qua non si comprende come i sindaci, gli amministratori, che ogni giorno siamo in prima linea, non possiamo essere presi, come dire, non possiamo essere colori quali poi alla fine devono pagare per tutto. Ma perché alla fine, oltre a rischiare di pagare su un piano personale, si rischiano di mandare in aria le comunità e le città. Per cui, e già vi è in questo senso un'ampissima condivisione da parte di tutti i sindaci, nell'andare a fare una battaglia forte, nell'andare a fare comprendere al Governo nazionale, che, sì il federalismo, ma che non si può attuare nei termini in cui si sta attuando, si vuole attuare, con ulteriori tagli che vengono realizzati a danno degli enti locali. Perché poi gli enti locali, i comuni, siamo quelli che quando ti tagliano ulteriori 1.700.000 euro, ma come posso io andare ad asfaltare le strade? Come posso io? Io vi devo dire la condizione nella quale mi sono trovato ogni giorno. Quello del papà di famiglia, del padre di famiglia, a cui il figlio gli domanda, papà, ho bisogno che mi compri quel paio di pantaloni, piuttosto che quel maglione. A cui il papà deve dire purtroppo di no, oppure gli deve dire aspetta. La condizione drammatica mia di questi anni è stata questa. È stata quella di un papà di famiglia il quale si è trovato a dovere capire che cosa fare con una situazione drammatica e disperata dal punto di vista finanziario. E allo stesso tempo a dovere fronteggiare, dare il segnale di una città che non si arrende, di una città che non demorde, di una città che non butta la spugna. E quindi, oltre ad avere sempre l'occhio sulla situazione finanziaria, guardare la programmazione. Ed ecco allora la progettazione, i finanziamenti sul centro storico, i finanziamenti comunitari, di cui ho parlato anche col presidente della regione sabato scorso, di cui attendiamo i relativi decreti, ma che ormai sono anche questi per la nostra città, andare ad affrontare il tema della rete idrica. Anche questo tema storico è straordinario. Ma sul piano finanziario, ecco, vorrei che proprio che si comprendesse che non è solamente una ragione numerica di numeri che vengono chissà come sanati da un anno ad un altro e lungo un certo periodo, senza soprattutto che vengano aumentate imposte o tasse. È una ragione di vita o di morte. Lei non demorde, anzi nonostante tutto annuncia che si ricandiderà sindaco, proseguirà anche la prossima legislatura. Ma io questo impegno l'ho assunto con la mia città e lo intendo continuare a portare avanti, lo intendo continuare a portare avanti contro tutti i denigratori che ci sono, perché anche tutti i denigratori che ci sono non ce n'è uno, dico uno, che mi muove su un piano politico di scelta sui fatti, ecco, dico, una opinione diversa. Perché io apprezzerei, se ci fosse un competitore, avversario sul piano politico, che mi muovesse una critica rispetto alla situazione che abbiamo affrontato in questi anni difficili, di come avremmo potuto muoverci diversamente, di cosa avremmo potuto fare, però senza demagogia e misurandoci sulle cose. Invece io, onestamente devo dire, l'opposizione, come dire, non vi è stata, vi è solamente ora in queste settimane, in questi giorni, strumentale, personale, magari anche un po' con l'ivore, ma queste sono cose che nella politica si devono superare. Dico, abbiamo affrontato momenti veramente difficili e rispetto agli atti che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sono stati atti che sono stati sempre valutati quasi all'unanimità, proprio perché, ecco, non vi erano altre scelte da poter compiere, perché si è giocato sempre per la sopravvivenza dell'ente, si è giocato sempre per mantenere aperta la città, per continuarla a fare, andare avanti. Quindi in questi anni, io in questi anni mi sono impegnato affinché questa città non morisse, affinché questa città non fallisse, non chiudesse. E allora abbiamo creato tutte le condizioni per poter andare a guardare avanti. Il centro storico, la rete idrica, ma prima di ogni altra cosa c'è stata e c'è la situazione finanziaria, perché è come in ogni famiglia. Se c'è una situazione finanziaria drammatica, allora veramente la famiglia scoppia e si chiude tutto. E noi in questa situazione drammatica siamo riusciti ogni giorno a guardare avanti, ogni giorno a riuscire a dare una soluzione, e comunque a fare comprendere. In questo senso devo dire, io ho apprezzato tantissimo proprio la gente di Agrigento, che ha compreso. Io ogni giorno incontro 50-100 persone al giorno, ogni giorno, che mi vengono a trovare al comune, dove ognuno con grandissima dignità porta un problema, un'esigenza. E ci sono gente a cui puoi dare una risposta, gente a cui devi spiegare qual è la situazione e che quindi la risposta non gliela puoi dare, gente a cui devi spiegare che la risposta può essere data dentro alcune regole e dentro una procedura. E purtroppo in una condizione in cui l'economia, a parte la situazione nostra, dico l'economia è stata una economia ferma. E quindi questo con ulteriore aggravio della situazione cittadina e della situazione provinciale. Sindaco Zambuto, ancora a proposito della rete idrica, io ospitai tempo addietro appena si insediò il presidente di Girgenti Acque, Giuffrida, il quale mi spiegò che tra gli adempimenti imposti dal lato al gestore privato, alla società Girgenti Acque, secondo il capitolato d'appalto, vi sarebbe stato anche l'obbligo di provvedere alla ricostruzione, al recupero della rete idrica. A distanza di anni è da intendersi come un inalentimento da parte della Girgenti Acque. Allora, quello della rete idrica non figura tra i primissimi posti del piano del POT, del piano programmatico di Girgenti Acque, presentato quando vinse la gara. E quindi l'eventuale realizzazione da parte di Girgenti Acque della nuova rete idrica si sarebbe dovuta fare in parte con soldi di Girgenti Acque, ma in parte con soldi da parte dei contribuenti. Perché così prevede la gara d'appalto che ha visto Girgenti Acque vincere il servizio. Oggi quando noi portiamo ad Agrigento 50 miliardi delle vecchie lire e le portiamo chiaramente con un finanziamento pubblico e le portiamo perché venga realizzata la nuova rete idrica, è chiaro che non solo i cittadini non devono mettere una lira rispetto a questo tema, ma anzi deve la tariffa essere scontata, la tariffa per gli agrigentini di questo finanziamento pubblico, questo è chiaro e deve essere chiaro a tutti, quindi anche lì ho visto che c'è stato qualcuno che si è divertito alle polemiche che veramente sono cose da impazzire, perché mentre dovremmo essere tutti felici e contenti di dire finalmente, meno male, abbiamo un risultato importante per la città, no, gli oppositori politici, quello che mettono in giro come al solito, i veleni, le cattiverie, ah questo è stato fatto per Girgendiacque o per quant'altro, signori miei c'è la legge, c'è un finanziamento pubblico, oggi, dico oggi che siamo nel mese di gennaio, c'è Girgendiacque fino a oggi, bene, se Girgendiacque farà loro questo servizio, lo faranno con questa procedura che è prevista dalla legge, per cui gli utenti agrigentini che eventualmente, nell'ipotesi in cui il lavoro fosse stato fatto da Girgendiacque, con i finanziamenti di Girgendiacque, avrebbero dovuto mettere l'ulteriore parte che era prevista così dalla legge, in questa maniera non solo gli agrigentini non metteranno un euro, ma anzi verrà scontata sulla tariffa. Ancora il tasto Ray Winden, nell'ambito della nostra conversazione, poc'anzi il sindaco di Agrigento Zambuto si è soffermato sull'importanza irrinunciabile del dissalatore di Porto Empedocle e allora l'auspicio di tanti cittadini e di tanti esponenti politici di Agrigento, più volte rivolto alla classe politica regionale e al presidente Lombardo, è che la regione riscatti il dissalatore di Porto Empedocle perché è costato 10 milioni di euro e perché adesso riscattarlo costerebbe soltanto 500 mila euro. Si tratta di una occasione da non perdere. Lei ne ha parlato con Lombardo. Io ne ho parlato con Lombardo, ma io voglio ricordare che questo, e qui vi è anche una comunicazione da parte della regione siciliana, una comunicazione dell'estate ultima scorsa, in cui la regione siciliana, proprio quando stava per scadere il contratto triennale, ha fatto la comunicazione che ha inteso riscattare il dissalatore. Mi viene detto ora che dal punto di vista burocratico la vicenda abbia qualche problema, si sia fermata, come in ogni cosa, ci vuole sempre uno addosso che va a seguire le cose, che poi va a fare incontrare i dirigenti, i tecnici, i responsabili. Significa che ci dovremmo fare carico anche di questo. Ma per quanto mi riguarda sul piano politico, la vicenda è conclusa perché vi è la lettera della regione siciliana che quando io quest'estate, proprio per quando ho messo in allarme la regione siciliana, dicendo che vedete che si tratta di un dissalatore che non si può chiudere, perché per la nostra città è fondamentale, rappresentando una fonte di approvvigionamento, fondamentale perché le nostre fonti di approvvigionamento sono fonti sempre molto lontane, a distanza di più di 100 km dalla nostra città, per cui il dissalatore deve rimanere. Anzi, anche lì avanzava una proposta come Comune Agrigento, che ero pronto, voi comprenderete con tutte le difficoltà che abbiamo, dico pronto anche a sostenere eventuale impegno finanziario, chiaramente dilazionato negli anni, perché non chiudesse. Lì la regione siciliana ha mandato una comunicazione che intendeva esercitare lei, regione siciliana, l'opzione di riscatto del dissalatore. Quindi io questa vicenda, ripeto, una volta che vi era stata questa comunicazione, per me ha rappresentato e rappresentava una vicenda chiusa sul piano politico, significa che su un piano amministrativo ci dovremmo impegnare per andare nuovamente a seguire e fare in modo che alla scelta politica poi vi sia la conseguenza su un piano amministrativo. Che vi devo dire, è stato anche questo un problema serissimo di questi anni, in cui abbiamo dovuto fare i nostri saliescenti da Palermo e da Roma continui per andare anche e soprattutto a sbloccare e springere vicende burocratiche e amministrative e che diversamente ci avrebbero fatto perdere ulteriore tempo. Procediamo verso la conclusione dell'odierna puntata di tema, recuperando il profilo politico della nostra conversazione, Sindaco Zambuto. L'ottimo rapporto sotto il profilo di carattere tecnico, di investimento, di finanziamenti con il Presidente Lombardo ha partorito anche degli effetti di carattere politico ed è inevitabile che sia così. L'espressione più immediata di tale effetto politico è l'inserimento nella prossima giunta il Zambuto Quater di un esponente del Movimento per le Autonomie. Assolutamente sì, ma io anche su questo voglio essere estremamente chiaro. Io sono stato eletto con una formula voluta dalla città, una formula fuori al di sopra dei partiti, una formula che poi nell'amministrare ogni giorno ho praticato perché ho evitato che i partiti, ho evitato qualunque lottizzazione, ho evitato qualunque sperpero, ho evitato consulenze o esperti, apparenti, amici, fratelli e quant'altro e ho adottato un'azione che, ripeto, andava a chiamare a destra o a sinistra, andava a chiamare i responsabili istituzionali per impegnarsi nella città.